Ciao ragazze e benvenute in un mio nuovo video questa volta è un what's in my purse questa tipologia di video non l'ho mai fatta è il mio primo video che faccio sulla mia borsa e su cosa metto la mia borsa devo dire che quando utilizzo la borsa all'inizio è vuota, non c'è dentro nulla piano piano si riempirà di scartoffie è sempre così però sto cercando di mantenerla piuttosto pulita comunque la mia borsa è questa spero riuscite a vederla è di carpisa è tipo similpelle non credo sia pelle nera con tutti i dettagli oro l'ho pagata su 35 euro mi pare se non erro ed ora ve la faccio vedere nel dettaglio mi piace per la white gold is it that ice cold mi piace per la white gold is it that ice cold mi piace per la white gold this one for them hood girls them good girls straight masterpiece stylin', violin', livin' it up in the city got chucks on with Saint Laurent come vedete questa è la mia borsa nella taschina qui davanti tengo sempre il cellulare col portacellulare per avercelo a portata di mano l'assorbente e le big bubble nella taschina più grande tengo sempre tic tac ammuchina che non può mai mancare specchietto biro pastiglie limette e tanti rossetti in base come se l'ho truccata e infine anche le forcine nella borsa vera e propria invece tengo sempre portafoglio crema tanti fazzoletti e il menù zush che guardo quando non so che cosa fare spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi mando un grossissimo bacione e ci si vede giovedì prossimo ciao ciao